Allora comincerai con Andrea, da dove nasce appunto questa voglia, questo percorso interessante che poi in realtà è un po' thriller ma è un melò, è un horror, è soprattutto un percorso di consapevolezza ritrovata, o meglio trovata consapevolezza da parte di un adolescente, quindi insomma cosa ti affascinava di questa storia? Questa storia intanto l'ho letta la prima volta che più o meno avevo l'età di Alice e quindi mi rimase molto impressa perché non avevo mai letto niente di italiano che osasse andare al di fuori dei generi consolidati e che entrasse dentro un panorama esistenziale però molto azzardato, molto violento, con questo lato diurno così idilliaco, idealizzato, e questo lato notturno così selvaggio e questa cosa me la ricordo appunto come se l'avessi letta ieri e me la sono portata dietro per anni perché io poi questo film l'ho pensato per anni, tanto è vero che quando stavamo sul set a volte dicevo no no fermi tutti, sono 15 anni che volevo girare questa scena perché in realtà è stata veramente vissuta da me così, è stato tanto tempo che l'ho portato dentro di me e quindi sono molto grato e molto soddisfatto, insomma ringrazio Vivo Film, Warner Bros. Pictures per avermi messo nelle condizioni di farlo al meglio. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello diciamo di coronare un po' un percorso su quest'età però in una chiave questa volta più esplicitamente fantastica, più esplicitamente metaforica, favoristica, più esplicitamente e quindi ci dà anche un diritto di invenzione e di spingere più all'estremo, non so, tante tematiche di cui magari già mi ero interessato, però in questo caso potevo proprio farlo anche usando molto di più l'immagine, il suono, diciamo una valenza anche espressionistica del trucco, dell'azione, insomma mi ha dato veramente possibilità di esprimermi in modo meraviglioso, in modo spero dirompente. Alice, a proposito di possibilità di esprimersi, insomma Mirta è un personaggio complesso, doloroso, immagino sia stata affascinante per te raccontarlo, come è andata? Mi sono innanzitutto innamorata della genuità che c'era scritta nella sceneggiatura che descriveva Mirta e poi la cosa che è stata molto difficile da rappresentare è stata la dualità, la sua purezza con la parte combattente, con la parte che deve affrontare grandi sfide di sopravvivenza, che in qualche modo la trasforma e trasforma il suo corpo e anche la sua voce, quindi diciamo che è stato un grande lavoro recitativo, che mi ha dato tanto, diciamo che Mirta è stata una forse delle sfide più difficili che mi sia fino ad ora capitata e spero davvero che l'impegno si veda. E invece Robin è un personaggio appunto anche lui molto tormentato, un personaggio comunque altrettanto cupo, ma allo stesso tempo rappresenta un po' questa grande lato melò, questa grande storia d'amore che va al via della morte, no? Come è andata? Come ti sei incarnato in questo personaggio? Non semplice immagino. Sì, senza dubbio non semplice, però sono state delle montagne russe emotive che mi sono goduto appieno, perché un attore deve essere anche un pochino autolesionista, io penso, perché per interpretare personaggi del genere e comunque mettere le mani in pasta in corde molto cupe, molto scure, deve piacerti il processo e senza dubbio è stato così, io l'ho apprezzato tutto, è stato un personaggio molto pieno di sfumature da mostrare e le ho apprezzate davvero tutte. Andrea, in qualche modo è comunque una storia di formazione, una storia di outsider, di persone in un periodo in cui si tende sempre a identificarsi come qualcosa di diverso rispetto all'altro, è comunque una storia che guarda anche a questo, no? Di come la diversità poi vada affrontata, ossia complessa nel percorso di crescita. Assolutamente sì, anzi, quello che secondo me è abbastanza nuovo è che la protagonista è anche il mostro, nel senso che non c'è più un antagonista esterno e un protagonista che lotta per ritrovare un equilibrio nel mondo, però la protagonista lotta innanzitutto contro se stessa e scopre degli aspetti che la fa sentire assolutamente sola, unica ed emarginata. Anzi, poi la storia diciamo fa un salto nel momento in cui scopre di non essere sola, però su questo punto io spero insomma si connettano e parlino soprattutto insomma fra di loro, cioè che si comunichi fra adolescenti, che si parla di loro in questi termini e non soltanto come diciamo ragazzi più o meno cazzoni che vanno al liceo, che si innamorano e che si ingerosiscono perché la ragazzina è andata con altri. Cioè in questo caso gli adolescenti vengono presi molto sul serio, in una maniera secondo me anche un po' liberatoria e spero che grazie a questo film si sentano anche un po' meno soli. Alicia, a proposito, ti sei sentita anche tu un po' liberata in questa storia, anche perché qui davvero avevi due personaggi completamente diversi, da una parte la persona innamorata, più se vogliamo leggera di una parte della storia e dall'altra invece quella assolutamente più cupa post-mortem. Sì, diciamo che la liberazione fa molto parte del personaggio che ovviamente ne ha bisogno, è alla ricerca di questa liberazione. La cosa, in realtà io per me stessa sento più una misura, ho dovuto bilanciare, equilibrare due parti, il bianco e il nero, e farle emergere in maniera molto chiara e precisa, avendo comunque sempre lo stesso volto, quindi ho dovuto trasformare il mio volto, le mie emozioni, il mio corpo. È stato molto interessante. Rocco, invece a proposito di giovani rappresentati, talvolta non in maniera credibile, cos'è che invece ti ha stupito? Cos'è che ti sei ritrovato magari nel tuo personaggio e in questa storia? Guarda, quello che ho apprezzato molto è stato proprio in generale il tipo di linguaggio che tutti noi abbiamo, ci siamo sforzati di trovare. E questo ha reso la comprensione di quello che stavamo facendo più chiara, più limpida. Era proprio uno sforzo corale dell'accordarci sul trovare un linguaggio comune. E devo dire che per quello che mi concerne l'abbiamo trovato, abbiamo cercato di lavorare secondo quelle norme.